Giorgio Sambin, assessore provinciale qui a Savona nel campo delle attività produttive e della formazione. Siamo qui oggi ai 30 anni di cooperarci, la formazione sicuramente è uno degli elementi fondamentali in questo settore. È un elemento fondamentale in quanto è un settore che come abbiamo visto nel convegno deve sempre e continuamente rinnovarsi e cambiare. Questi 30 anni hanno dimostrato che chi sa interpretare il cambiamento sa comunque resistere anche alle diverse difficoltà del momento. Io credo che i cooperarci sia una dimostrazione di grande sensibilità e attenzione ai cambiamenti. Quale può essere il rapporto con le istituzioni di cooperative di questo tipo? Sicuramente è un rapporto che dura da tempo ed è stato già collaudato. Quello che posso pensare è anche per quello che sarà il futuro, quindi una programmazione del nuovo Fondo Sociale Europeo che aiuterà questo tipo di strutture in percorsi formativi e sociosanitari per i prossimi 7 anni.